Vini, acquavite e liquori, aceti, tre filiere, un valore italiano. Un valore che si esprime nella convivialità e nello stile di vita mediterraneo. Un valore che significa misura e qualità. Anche nel consumo. Un valore che ci ispira a promuovere la cultura della moderazione e del bere responsabile. Federvini, un valore italiano.